Ciao a tutti, sono Stefano di Scambio Europei e sono qui per presentarvi il primo incontro del ciclo Talenti in Gioco. Giovedì 15 febbraio alle 16.30 presenteremo all'Informa Giovane Multitasking del Comune di Bologna le nostre attività. Parleremo delle opportunità di mobilità all'estero, che cos'è uno scambio interculturale e come funzionano i progetti di volontariato in Europa. Tra l'altro presenteremo anche un nostro progetto in cui stiamo cercando dei volontari per vivere un'esperienza unica in India e a Bari, per cui vi aspettiamo numerosi. Ciao! Hai mai partecipato ad un tandem linguistico? Sai cosa ha di diverso quello dell'Informa Giovani? Sono Kabir di Aege Bologna e vi aspetto il 15 febbraio alle 16.30 insieme a Scambio Europei per iscrivervi e saperne di più sull'associazione.